allora ciao ciao a tutti questo video allora oggi compie gli anni marco curia quindi questo video dedicato a marco curia sto facendo una partita adesso ormai sono avanti in questa partita e di forte ma questo era giusto un video per fare tantissimi auguri a marco curia ti faccio tantissimi auguri di buon compleanno auguri auguri auguroni davvero tanto 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 festeggia bene divertiti e niente vediamo un po cosa combino qua io ne sono rimasti 13 di persone controlliamo chi c'è allora tanti auguri marco curia tanti auguri a te è un zero costruzioni a raga questo io ricordo che zero costruzioni facciamo il giro di là andiamo a pusciare ormai siamo in sgoccioli con questa season ormai c'è il counter tre giorni 18 minuti 49 eh sì 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 ormai lampina comodo eh ma sì andiamo a lampina dunque io direi di muoverci da qui prendiamo un po di cosette che bello sto faccione di pietra scivola 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 tanti auguri a marco curia tanti auguri a te il jetpack mi piace anche il jetpack però quanto rampino tanta bella roba è la è la l'ho visto l'ho visto l'ho no dove cavolo è quello li dove cavolo è l'altro che mi stava sparando cavolo faccio in tempo curarmi faccio in tempo curarmi è la dietro cavolo vieni fuori a parte che qua se c'è gente che mi qui vedo oh cavolo è 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 Dov'è che è? Ah è lì Non c'ho una mira del cavolo Nooo, sono negato, sono negato, sono un nabbo Vabbè Allora, vabbè, nonostante non sia stata una gran partita Spero che ti sia piaciuto lo stesso ugualmente il video E tantissimi auguroni Marco Curia, grazie della tua amicizia E continua a seguire il mio canale Ciao E grazie a tutti quelli che hanno visto il video Ciao, 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 ciao a tutti Guardiamo come finisce Ma sì, dai, possiamo guardare come finisce, dai Anche se io ho perso Questo qua cosa sta facendo? Sta Questo zentran qui in mezzo all'acqua E l'altro col cecchino pronto a sparare E lui è in high, è in alto Eh, vince questa agent boss Secondo me Si è lanciato Ma lui è stato tutto il tempo L'altro Amorevole E questo qua Ah Chi vince fra queste Amorevole Contro agent boss E da me vince questa agent boss Perché mi sembra un furbino Anche se secondo me ha camperato un po' Boh Non posso saperlo Però Di preciso Ma secondo me c'è stato un bel po' lì sopra E beh, la gioca così Tutta volando lì L'altro E qua Non posso saperlo Dai la vince questo agent qua, la vince lui, sta sempre in volo lì sopra, attenzione, non gli spara? Ma, come mai ne ho ancora, questo Marvodici non, ah ecco, ecco la fighter, ha vinto mister, ha vinto lui, niente, ho sbagliato, pensavo vincesse l'altro, va bene, comunque ancora tantissimi, tantissimi, tantissimi auguroni a Marco Curia, e ciao a tutti!